In compagnia di Bartoletti Giussi, dirigente del Quincitava, abbiamo parlato del settore giovanile, però c'è una grande novità per tutti i tesserati del Quincitava in vista. Sì, in occasione del cinquantennale del Quincinetto Travagnasco si è pensato di dare una possibilità a tutti i nostri tesserati, un concorso, fare un logo della nostra società. Il miglior disegno sarà premiato il 14 di dicembre durante la cena di Natale e poi tutto finito. A giugno ci sarà la grande festa del cinquantennale dove ci saranno tutte le vecchie glorie del Quincinetto.